Ciao ragazzi, sono Viviana Fabbozzi e sono lieta di presentarvi il mio nuovo programma Natural Body Art che è un programma di allenamento di tonificazione che si trova esattamente a metà tra il mondo olistico e quello invece del lavoro specifico di condizionamento muscolare, potremmo anche dire un lavoro più metabolico allenante. Si tratta nell'essenziale di un ibrido di discipline diverse che hanno un po' rappresentato a quella che è stata la mia crescita formativa in questi anni, proprio la mia personale, quindi il mondo olistico è rappresentato da tutte quelle discipline posturali come il gyrotonic, come il pilates, come il Feldenkrais che sto attualmente studiando e il mondo invece un po' più funzionale, quello relativo al fitness, è sicuramente rappresentato dalla mia ultima esperienza in questi anni, della mia formazione in tutte le discipline che caratterizzano il funzionale. La cosa carina e probabilmente molto interessante è che l'aspetto psicologico che mette in stretta relazione mente-corpo è veramente studiato e sperimentato attraverso lo studio stesso dei cinque elementi del ciclo della vita e da questi cinque elementi nascono quattro cicli di allenamento che prenderanno il nome di allenamento NBA, aria, acqua, terra e fuoco. L'acqua e l'aria saranno rappresentative dell'aspetto più mind e quindi attraverso il movimento alleneranno sicuramente la mente, la concentrazione. Nell'altro caso terra e fuoco rappresentano più il lavoro del body, quindi del corpo, e nello specifico attraverso quindi la concentrazione della mente, il controllo della mente, riusciranno a rendere il corpo più funzionale. Spero veramente di vedervi numerosi e credo che sia veramente interessante per tutti gli operatori del settore olistico, ben chiare sono le discipline che lo rappresentano, e anche tutte le persone del settore funzionale, compresi quelli del fitness musicale che da anni insegnano condizionamento muscolare. Pertanto vi aspetto veramente numerosissimi e vi ringrazio intanto per l'attenzione. A prestissimo!